La regione Abruzzo ha investito molte risorse per sostenere il mondo della ricerca scientifica e in particolare quello della ricerca applicata. È una strategia ben precisa che non a caso crea le condizioni affinché ci siano ricadute importanti sul territorio. Lo ha detto ad Atessa, alla SEV, il presidente della giunta regionale Marco Marsiglio, in occasione della finale di Start Cup Abruzzo, evento di Open Innovation organizzato dall'Associazione Innovale che ha premiato il migliore progetto presentato da start-up e spin-off universitari. Alla ditta OMG System, la quarta edizione della Start Cup che punta a favorire la nascita delle industrie, il presidente Marsiglio. Siamo partner istituzionali di diversi progetti di ricerca e tutti i nostri atenei sono capofila di progetti finanziati adesso nell'ambito del PNRR o di altri strumenti di finanziamento nazionale o europeo, con il vantaggio che non è soltanto poi ricerca pura, solo accademica, ma si tratta di tutti i progetti che hanno delle forti partnership, associazioni con le principali imprese del territorio e non solo, che quindi trasformano praticamente in presa diretta l'innovazione e la ricerca in corso in nuovi strumenti di produzione e innovazione. L'assessore regionale allo sviluppo economico Daniele Damario ha rimarcato l'importanza del collegamento delle start-up con le realtà imprenditoriali più importanti come appunto la SEVEL. Regione Abruzzo dedica tanta importanza alle start-up perché il futuro è l'innovazione, quindi le piccole imprese innovative vanno aiutate, sostenute e noi lo faremo con la nuova programmazione 21-27 che addirittura per l'innovazione tecnologica mette a disposizione in 7 anni circa 240 milioni di euro.